Ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati nella Angolocraft, episodio 14 Eh no, in realtà è l'episodio 15, solo che ne ho registrati troppi di fila Quindi qui dico 14 e ovviamente nel 16 mi sentirete dire episodio 15 Non fateci caso Allora, qui ho sistemato la stanza, come potete vedere ho fatto anche il tappetino gioallo Ma quanto è bello, e oltretutto ho messo anche delle cest Mentre che sistemavo il tutto, che qua praticamente ho messo gli oggetti più particolari Anzi questa prendiamocela, è anche due di ametista, giusto per fare il cannocchiale, nulla di particolare E qua potete notare anche che ho una sola lid, ma ora procediamo con ordine Quindi ho sistemato queste cose e ne ho approfittato per liberare qua Lui era salito, perché comunque qua i villager possono salire E mi sono messo lì di santa pazienza e ora anche lui ci dà il mending Così ne abbiamo uno nel vecchio villaggio e lui qua Più che altro quello del villaggio lo teniamo di backup, non si può sapere mai Qui ho messo una piccola ceste con i lapis, la pelle che ho farmato nel frattempo e un po' di carta Carta che comunque è anche fuori, non so se si può vedere Abbiamo un sacco di mucche e qualche pecora gialla che ho colorato, così giusto per avere già la lana colorata E ora vi faccio vedere tutto con ordine Lui ovviamente può fare solo se li scendi perché questa trapdoor lo blocca Qua sotto è rimasto tutto invariato Come anche qua ho semplicemente aggiunto queste Che praticamente avevamo trovato nella miniera E le ho messe qui per poterle farmare un pochettino grazie al bomb meal Poi qua ho cambiato la porta facendola di spruce Perché tanto oramai abbiamo spruce in quantità industriale E ho dato un po' fondo alle risorse di cobblestone e il resto Perché ho dato una sistemata al villaggio ragazzi Cioè almeno abbiamo il tutto Qui ho una leggera farm di spruce Mi è sfuggita la mano Quello non lo abbatterò mai, questo centrale, però gli altri sì Come vedete mi ha colorato tutto il terreno e cambia anche il sound Qui ho spianato un po', infatti ho dedicato una cesta alla sabbia Perché praticamente ne abbiamo un botto E qui sopra, a parte che ora le tartarughe hanno un poco più di spazio Ho messo la canna da zucchero Anzi dovevo riabbassare i tic perché li ho messi a mille per farmare più velocemente A 30 è più che sufficiente Qua abbiamo tutta la carta del mondo Sto aspettando praticamente le mucche per la pelle Perché volevo fare una libreria Ovviamente la mettiamo lì nel secondo piano della casa Qui c'è un cavallino che praticamente gli ho dato tutte le mele che avevo E ora lo posso cavalcare L'ho trasportato con la lid Infatti come avete visto ne avevo solo una E l'ho messo qui Qua ho fatto queste balle di fieno con il nostro recintino Semplicemente per fare l'orto perché così posso farmare al volo E da questo lato ho messo anche una crafting che praticamente serve sempre E qui praticamente ci metto il grano Grano che comunque ho trasformato in balle di fieno Provvisoriamente le mettiamo qui come anche i semini E poi ragazzi ho fatto questo muretto qui con i brick Ho allargato pure un pochettino lo spazio perché c'è mucche e cose In tutto il villaggio ho messo qui le pedane In modo tale che entrano e escono e non c'è alcun tipo di problema E ho aggiunto anche qualche letto Infatti vedete ho messo letti gialli un po' dappertutto Così abbiamo nuovi villager che tanto sono sempre pochi Poi ho sistemato un pochettino anche tutto il discorso scalette Come vedete ho messo scale di cobblestone un po' qua e un po' là Giusto per fare anche un percorso Per la torre che abbiamo realizzato nell'episodio precedente a questo Qui infatti abbiamo nuovi villager Toccherà fargli anche dei lavori Qui che vi ricordate c'erano due villager avventurieri Io ho dato il lavoro dando fondo ai due cartografi Quindi abbiamo due cartografi che per la carta ci scambiano il tutto Lui l'ho messo in sicurezza così E pace perché se la fidano a salire ma non tanto a scendere Hanno il loro lettino e ciaone Poi praticamente da questo lato non ho cambiato un granché Se non appunto sistemare il discorso delle scale Qua come vedete è molto più agevole Qua ho spianato Qui ho messo anche le porte di spruce Che tanto oramai è il legno che utilizzeremo per tutti i progetti Ho anche quello chiaro però insomma mi piace di più così Qua sopra mi sono metto un letto a comodo E qua abbiamo il tramontone Eccolo qua E insomma ho fatto tutte queste modifiche E ovviamente ragazzi non registro ogni volta timelapse e cose Perché si porta veramente un sacco di tempo Per poi comunque vedere a me che scavavo fare dire Ho ripreso anche un po' di ferro e un po' di carbone Qui mi sono fatto dare un mending dal bravuomo Bravuomo a cui andiamo a dare un nome E ci incantiamo anche la spada con il mending Vorrei vedere di sistemare anche il discorso del E qua gli enderman ci regalano forti emozioni Dicevo vorrei sistemare la libreria che non abbiamo Così possiamo provare qualche libriciattolo Qua vi faccio vedere al volo prima che ci scannano Che ho fatto il sentiero per la zona praticamente dove c'è il nostro portale del nether Nulla di particolare ragazzi Quattro scalini e via E ho utilizzato queste di qua che hanno le glove Le glove berries per illuminare un pochettino là sopra Comunque è sempre pieno di stronzi Ho messo torcia a mai finire Infatti mi sono dovuto rifornire di carbone perché l'ho terminato Ho fermato anche un bel po' di legna perché mi serve Se voglio fare le librerie sono praticamente sei pezzi di legno di qualsiasi tipologia Affortunatamente non c'è il tutto Qua ho chiuso qualche buco perché ho assistito a una scena incredibile C'era un buco da queste parti da dove sono usciti non sto scherzando qualche venti zombie E hanno aggredito un golem che ho dovuto riparare Affortunatamente sono riuscito ad aiutarlo Qua abbiamo la legna con i vari simple Per ora sto piantando solo spruce perché mi piace un botto E niente ragazzi andiamo a dormire E ci organizziamo per quanto riguarda il tutto Qua ho dovuto mettere questo cancelletto perché l'idiota lo trovavo bloccato qua Perché provava ad andare nel mio letto Così abbiamo il tutto molto molto riservato Allora diamo il nome al villager Che vabbè io avevo detto di chiamarlo Mendingo Quindi lo chiameremo Mendingo L'altro resta senza nome Pace E stesso attraverso lui io mi potrei prendere anche le librerie Perché mi farmo gli smeraldi Che me ne sono rimasti sette e via Allora andiamo a fare le cose con ordine Innanzitutto la spada, pungolatore Prenditi questo Mending e sono due livelli L'etichetta andiamo a Eh vabbè sì magari a tutto schermo Grazie Mendingo Ok Vabbè questo è semplicemente un livellino E gli andiamo a dare il nome al villager Che per comodità lui ci raggiunge Ok ciao Mendingo Da oggi in poi sei nominato così Poi volevo fare questo cannocchiale Quindi mettiamo a cuocere due di copper Semplicemente così Se non erro sono due di copper o tre Vabbè Cuscina me ne è quattro Le mettiamo qua così facciamo velocemente Anzi lo vediamo subito Il cannocchiale Eh come si chiama Mirror No Lens Vediamo qua Vediamo qua Eh non mi ricordo mai in inglese Come si dice cannocchiale Però comunque ora Con il copper Lo possiamo vedere Dovrei rifarmi anche l'armatura Perché sì Quindi a questo giro Mi rifaccio Faccio Il sopra Ok I piedini Perfetto E anche i pantaloni I pantaloni che sono così Perfetto L'elmetto mi pare che l'avamo recuperato Questa La possiamo levare Perfetto Potremmo anche incantarla Se riusciamo a fare la libreria Ah ragazzi I calderoni Utilissimi Perché Voi prendete E ci buttate la roba In questo modo E abbiamo i cestini Praticamente Dei rifiuti Tanta tanta roba Questa la sto conservando Anche se Insomma Non torna più di tanto utile Questa è tutta la sabbia Che ho farmato Praticamente Un botto Allora Facciamo il tutto Qua abbiamo anche il villager Di compagnia Ah ecco Spyglass Erano due di copper E uno di ametista Perfetto Vabbè Non ci serve una mazza Perché Ho la modalità zoom Però C'è perché io faccio c E zoom 8 volte di più Però L'abbiamo Ecco Vedetela così Allora Io direi di Farmare I smeraldini Ci recuperiamo Quelli che abbiamo E volendo Però Allora Io ho un botto Di carta A questo punto Visto che Abbiamo quello Che mi scambia La carta Farei così Questo Mettilo qua Professoriamente Perfetto Facciamo così Recuperiamo Tutta la carta E facciamo Più scambi Possibili Con Il villager Della carta Che tanto Ne abbiamo due Sto pensando Nella torre Della chiesa Così facendo Possiamo Possiamo Prenderci Le librerie D'altizio Tanto ce ne bastano 15 Poi per Il tavolo Degli incantesimi Se non erro Mi servono Tre blocchi D'ossidiana Un Come si Come si Chiama Che non Ci penso In questo Momento Un diamantino E qua Spettiamo Il discorso Che ho lasciato I tic Veloci Ecco Praticamente Si è Leggermente Illegale Però Vabbè Allora Trasformami Tutte queste Canne da zucchero In carta Grazie Ok Vabbè Penso che Ne abbiamo A sufficienza Dobbiamo trovare Anche una sella Per il cavallo Poi non so Se ci avete fatto caso Grazie alla mia shaders Ho sistemato i colori Ora è tutto Molto più saturo Ho tolto Quella sensazione Di Non lo so Sbiadito Perché ogni volta Poi Anche nelle copertine Dovevo fixare Il problema E quindi Ho saturato Il tutto Rispetto a me Comunque Molto più Bello A vedersi Allora Saliamo qua E andiamo dai due Tizi Allora Il sacerdote Non ci interessa Ci interessano Johnny E Jimmy Allora Johnny Qua ti do La carta Finché Mi scambi Ti dico Grazie Ah dai Sali pure di livello Così magari Mi dai pure Qualche scambio Interessante Vediamo Questo del cartografo In genere Non l'ho mai Sfruttato Più di tanto Ah Col vetro Uno smeraldo Preferisco I scambi Con la carta Sinceramente Ok Anche Che comunque Il bro Ma gli smeraldi Scusatemi Non li avevo presi Com'è che ne ho Cinque Mi sono caduti Te li sei fregati Ho sbagliato No Carta Smeraldi Scusate Com'è che ne ho così pochi Non lo riesco a capire L'ho Poi in mano Qua Sette Vabbè Rivedrò il video Per sicurezza Comunque Veramente pochi Bro Cioè Ho tenuto un botto di carta Per certe smeraldini Mi conviene che uccidiamo Un paio di mucche E ci facciamo noi Le librerie Cioè mi sembra più pratica Come cose Anche perché Sette smeraldi Cioè ragazzi Sono un po' qua Mi faccio un botto di carta La legna ce l'ho E amen Tanto ne dobbiamo fare quindici Dicono ne che Allora Farmo la carta Il più possibile E ci vediamo Al momento di fare le librerie Tanto Pochi istanti Veramente E via Allora Scambiamo Il tutto Io per sbaglio Poco fa Ho preso le mappe Ragazzi Cioè mi sono reso conto Questo è l'altro Che è sceso Molto molto bene Così Masteriamo Pure lui Ecco Perché in effetti Comunque Un paio di smeraldi Me li dà Certo A 24 Ok Tu ti sei bloccato Però ci dovrebbe essere Anche l'altro tizio Altro tizio Che non vedo Quello è il sacerdote Poi ci sono due sacerdoti Buono a sapersi Ah ecco qua Ah era un altro Ottimo Ottimo Devo stare attento Solo a cliccare Bene Ok 29 smeraldi Eh dai Non è male Ok Tu ti sei fermato Anche se forse Ho finito la carta Sì Praticamente ho finito la carta E per sbaglio Ho fatto pure Lo zucchero Vabbè E dobbiamo stare attentini Comunque 31 smeraldi Dai Non è male Andiamocene a dormire Oh Rieccoci Allora Possiamo Quello che non ci serve Le clubberries Le mettiamo pure qua L'occhietto Le ragnatele Eh E questo zucchero Che Ci faremo qualcosa Ecco Allora bro Buongiornissimo Vieni qua Mendingo Avanti Allora Dammi tutte le librerie Che puoi Tre Quindi tre librerie Vabbè ragazzi Non è malvagio Però come Sistema Perché Comunque Non ce le da Troppo care Allora Io devo capire 15 librerie Quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 Anche se mi verrebbe in mezzo Quindi 1 2 3 4 Aspettate 1 2 3 E no Qua Non lo possiamo fare Perché comunque Mi viene in mezzo Va bene Va bene Allora Farmiamo Altra carta Da qua E facciamo Ulteriori scambi Perché comunque Ci conviene Così Queste penso Che ci bastano Ok Allora Carta Perfetto Altra carta E ok Sta carne marcia Buttala Andiamo dalle mucchine Che non gradiranno Tantissimo Aspetta Mi metto questo qua Così magari Mi ricarico Pure un po' Il picconcino Mucchine Tanto siete Tutte adulte Vaccinate Perché Poi ho fatto Un macello Che è la metà Basta Non le ho contate Sinceramente Ok Direi che Può bastare Non è stata Una grande idea Ok Queste che sono uscite Le uccidiamo Ok Ante Tanto il tappetino L'avevo qua Dammelo E mettiti qua Tanto l'oro L'oro Dicevo Non ne possono Suffrire Se me lo fate mettere Vi dico anche grazie E poi Dice che non le deve uccidere Ah Così con la scusa Ci facciamo Per un po' di carne Se è fuggitiva Ma Stavo ammazzando Il cavallo Perché pure lui Immaculato Insomma Ah ragazzi Qua ho sistemato Ho chiuso L'ingresso Della nostra Prima miniera Giusto per non trovare Sorprese Questa è una mucca Da carota Perfetto E questo credo sia L'ultimo Sperstite Cioè Fatemi entrare dentro Per vedere un attimino Il tutto Ok Ah Là ce n'è un'altra Eh no Non si deve salvare Nessuno Ragazzi Ok Vabbè dai un botto di pelle A voglia A voglia di libri Che facciamo Allora Fammi tutti i libri Che possiamo 32 libri A voglia Ora ci recuperiamo La legna Volevo dare un po' di grano Alle mucche Quindi facciamo così Ok E le facciamo riprodurre Ecco ho dato una sonora Sfoltita Che non va bene Ok Copulate E coclate Com'era Ramon Non mi ricordo L'altra sera In live Siamo usciti pazzi Vabbè Allora facciamo Accoppiare pure un po' Le nostre pecorelle E qua abbiamo un problema Tecnico-tattico Il tappetino Non va bene Perché mi fa uscire I piccoli Vabbè Voi vi lascio liberi Dai Ok Qua l'esperienza Mi sta ricaricando Un po' il picconcino Niente Dovevo rivedere il sistema Se no Potrei abbassare di uno I recinti Così risolviamo Sì Farò così Allora Andiamo a recuperare Un po' di legna Da qua Mi ho farmato Un botto Penso che due stack Siano più che sufficienti E ci facciamo I libretti Innanzitutto dammi La legna E dobbiamo farci 15 librerie Quindi Fammi tutte le librerie Possiamo 13 Ah ho finito Già i libri Però insomma Ragazzi Me ne mancano Semplicemente Due Perché deve essere Da 15 E poi dovrei Decidermi pure Su dove mettere La libreria E ci recuperiamo Un po' di grano E facciamo Smeraldini Grazie a questo Perché così Insomma Facciamo Il tutto Direi che Questo grano È più che sufficiente Sti semini Praticamente Ce li abbiamo A perdere Già Abbiamo finito Il Il tutto Ok Quindi sono 8 Non mi ricordo Quello quanto ne voleva Per le librerie Però Allora Li farmo E ci vediamo Dai Perché se no Siamo veramente Una vita Ok Siamo a 14 Ne manca Una sola Quindi Prendiamoci un altro Po' di pelle Poi ho riflettuto Ragazzi Che Potevo semplicemente Prendere un pochettino Di pelle Di nuovo Dalle mucchine Con tanta gioia Ci assistono Devo cercare Di rientrare Al volo Sì Comunque Li devo abbassare Di uno E che cazzo Perché È impossibile Qua Fare il tutto Senza che queste Stronze Scappano Vabbè Ma ora Quelle Me le ritiro Dentro Al volo Allora Facciamo così Ok Dove cacchio sei Perfetto Allora Queste fuggitive Perfetto E 4 Di pelle Ok Così Mi posso fare Anche L'ultima Libreria Perché Due Libretti Mi dovrebbero Uscire Ok Sì E abbiamo Concluso Le librerie Perfetto Andiamo a dormire E Ragazzi Poi Prossimo episodio Stabiliamo Dove fare Praticamente La La stanza Con Le librerie E Fixiamo Magari Pure Il discorso Del recinto Perché Cioè È abnorme Così Bene Ragazzi Per questo Episodio È tutto Abbiamo le 15 Librerie Poi dobbiamo fare Il tavolo Degli incantesimi E Decidere Dove Costruire Il tutto Ora vedo Di studiarmi Un attimo In una zona E off camera Sistemo Il recinto Degli animali Al prossimo episodio Ciao Ciao